Il Museo Marino Marini propone un'importante retrospettiva sulla Prima Guerra Mondiale, raccontata attraverso le opere d'arte dei suoi diretti testimoni. La mostra inizialmente presenta al visitatore l'idea quasi romantica ed euforica della guerra che avevano gli intermentisti, qui rappresentata dai dipinti futuristi di Marinetti, Carrà, Baldessarri e altri. Segue la realtà della linea del fronte. Xilografie e carboncini che sono come fotografie di stati d'animo. Da un lato sono esposte le visioni private di chi ha esorcizzato l'orrore trasportando in immagine il volto di un compagno, oscene di drammatica quotidianità. Dall'altro non mancano le testimonianze ufficiali dei pittori soldato. Intorno alle immagini della propaganda bellica, le amare riflessioni sul conflitto, talvolta epiche e altre più intime, sono accompagnate dalla sua inevitabile mitizzazione. Museo Marino Marini, Chiara Valentini, C10.